aiuto qualcuno può aiutarmi che ti serve serenità e vendetta puoi donarmelo mistius ti daremo tutte le dracme che abbiamo prima mi servono altre informazioni i seguaci di ares bruciano i nostri villaggi e ci uccidono per il loro sacrifici quei bastardi stanno creando problemi in tutto il mondo greco vorrei che tu li facessi soffrire come loro hanno fatto con noi così i vivi troveranno pace e i morti saranno vendicati la mia lancia è vostra grazie mistius non ha idea di cosa significhi per noi devo sapere dove si nascondono i seguaci i seguaci di ares vivono nelle caverne tra i monti del dominio di zeus andrò a stanarli a a a a a a Grazie a tutti Grazie Andiamo, andiamo Questa zona è ben difesa Grazie 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 Vamos andiamo Forza Grazie 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 Oh Sono in trappola aiuto La libertà ti sarò grato per sé